io direi che possiamo iniziare e come al solito vi spiego vi spiego cosa faremo cosa faremo oggi angelo tienimi sotto controllo tu la chat così se c'è qualcosa avvisi allora allora cosa faremo oggi abbiamo intanto faccio un piccolo una piccola sintesi di quello che stiamo organizzando di quello che è stato che è stato il primo webinar perché per questo è fondamentale quindi stiamo cercando di creare dei webinar attualmente gratuiti e spero mi auguro se siete qui comunque non la pensate così ma spesso si tende a fraintendere il gratuito con poco valore quindi roba un po così però in realtà stiamo trattando degli argomenti molto fighi che in giro non trovate stiamo cercando di fare e di spostarci in un ottico o più manageriale quindi darvi delle chicche e darvi della formazione un po per aprirvi gli occhi su quello che è il mondo del bar e quindi ci stiamo piano piano staccando da quello che è la parte la parte più pratica o made anche se sapete bene che angelo è sempre molto attivo su quello vi può dare tantissimi consigli a riguardo ma stiamo cercando di indirizzarvi più su un'ottica manageriale del barman quindi un barman con una visione un po più a 360 gradi secondo noi sta diventando fondamentale soprattutto in questo periodo e anche perché in pochi ne parlano in pochi trattano questi argomenti parliamo e sentiamo tanti tanti barman che si concentrano e hanno comunque questa sorta di paraocchi verso il cocktail esclusivamente solo ed esclusivamente sul drink che per l'amor del cielo va benissimo però non può essere solo quello perché ci sono tante altre cose quindi è importante analizzarle è importante parlarne è importante che voi iniziate a conoscere questi aspetti e iniziate ad applicarli soprattutto siamo partiti dal primo episodio primo webinar abbiamo parlato di drink cost abbiamo analizzato insieme ad angelo come farlo e quindi come applicarlo come realizzare il drink cost e mi auguro che lo stiate facendo perché è fondamentale è fondamentale applicarlo per avere una gestione dei costi per avere una visione molto più larga su quella che è il bar ed è fondamentale soprattutto per l'argomento di cui parleremo oggi ovvero il menu il menu senza la parte di drink cost e quindi senza aver calcolato il costo dei nostri drink non possiamo andarci a mettere mano quindi vi svelo subito che realizzare un menu non è fare dei cottele e metterci lì dentro non è solo quello c'è tanto altro ed oggi a trattarlo inizieremo a vederlo un po allora iniziamo un po questo secondo master questa seconda master class come strutturata io vi parlerò diciamo di quella che è di quello che è ad oggi il menu engineering il menu strategy di come di quali sono i metodi migliori per andare a realizzare poi un menu funzionale e un menu che venda che è che vende insieme ad angelo invece poi andrete a trattare l'argomento homemade twist home classic sotto però un aspetto molto differente quindi oggi non vi mostrerà come fare praticamente le vostre preparazioni homemade ma ve ne parlerà sotto un punto di vista diverso ovvero di quali sono quelle funzionali di come realizzarle in maniera funzionale senza sprechi e come creare dei twist home classic vincenti quindi figli che vendano che siano che siano belli quindi come dice la prima slide come sviluppare cosa sviluppare per guadagnare di più nel mio locale allora ne abbiamo cercato di semplificare quella che sono secondo noi i tre punti fondamentali in cui bisogna fare una grande attenzione su cui bisogna fare una grande formazione per un locale vincente quindi per avere un locale strutturato nella maniera corretta che venda quali sono le tre risorse più importanti del tuo locale barman a vedere menu cosa vuol dire questo inteso diciamo in un cocktail bar ok poi ovviamente all'interno ci sono tanti altri ruoli ma nelle realtà nella nella realtà media italiana nel piccolo cocktail bar abbiamo tre figure che tre figure fondamentali tre risorse fondamentali che ci aiutano tantissimo in quella che è la vendita uno il barman ok il barman ha un ruolo fondamentale all'interno più locale perché è colui che insieme al cameriere si approccia al cliente e quindi se un barman è formato e un barman è formato su quelli che sono gli aspetti di vendita e quindi sa come relazionarsi a un cliente nella maniera giusta saprà anche come indirizzarlo verso dei prodotti verso dei cocktail verso degli dei servizi che giovano per il proprio locale attenzione avere sapere relazionarsi quindi essere una persona molto empatica non per forza ti dà delle capacità di vendita che sono due cose molto importanti sono delle competenze ulteriori quindi bisogna formarsi per essere in grado di vendere un prodotto quindi posso essere simpatico ma posso essere un pessimo venditore ma su questo poi ci torneremo se mai faremo dei webinar più in là proprio sulla vendita di quella che è il modo in cui relazionarsi per vendere di più all'interno di un locale la seconda figura è sicuramente il cameriere il cameriere è fondamentale perché oggi parleremo tanto di menu oggi vi mostreremo quali sono le basi per andare a creare un menu funzionale un menu vincente un menu che vende tanto ma di base di base il menu non risolve tutti i problemi all'interno di un locale perché se mancano poi i due aspetti precedenti quindi un menu senza un buon cameriere o spesso anche il barman che si ritrova in che si ritrova in sala e quindi si ritrova a prendere l'ordine andare al tavolo spiegare il cocktail raccontare il cocktail se un cliente ha un dubbio se un cliente vuole un consiglio solitamente è il barman che va al tavolo questo nella media dei locali perché perché spesso il cameriere non è formato quindi non è a conoscenza del non ha studiato il menu non è a conoscenza dei cocktail quante quante volte a noi ci è capitato di lavorare con dei camerieri che non sapevano nemmeno cosa fosse il campari oggi purtroppo c'è tanta mancanza verso questo ruolo e spesso viene confuso con il portapiatti che è il portapiatti non è un cameriere il cameriere è insieme al menu la figura più importante all'interno di un locale è colui che si approccia al cliente colui che se è formato per farlo vi dà veramente una marcia in più nel locale perché sa cosa vendere e sa indirizzare i clienti verso qualcosa che è più proficuo per voi ok quindi oggi parleremo tanto di menu ma sappiate che il menu da solo non basta perché bisogna avere un'organizzazione importante all'interno del cocktail bar un'organizzazione che comprenda anche queste altre due figure spesso spesso nel 90 per cento dei casi come vi ho detto prima il cameriere non è formato per non conosci cocktail non conosce le bottiglie non conosce i drink e cosa dobbiamo fare noi cosa dobbiamo fare cosa dovete fare cosa dovete fare voi come barman dovete formarli quindi dovete nel tempo libero sotto se mai chiedete al vostro titolare chiedete una riunione chiedete dei piccoli spazi dove vi dedicate a quella che è la formazione dei camerieri ok non durante il servizio non quando apre il locale gli spiegate al volo velocemente in sette secondi cosa c'è scritto nel menu i camerieri vanno formati visto che nella maggior parte dei casi sono sono persone che non sono molto competenti in questo lavoro dategli una mano ok voi come figure manageriali come barman dovete formare le persone che stanno dentro il locale formarle su cosa su il menu quindi spiegarglielo in modo tale che siano in grado poi di raccontarlo al cliente di venderlo al cliente ed arriviamo quindi al menu engineering è una disciplina su cui ci siamo su cui ci siamo specializzati io e Angelo da un po' di tempo a questa parte perché ne abbiamo visti abbiamo visto realmente il potenziale che ha questa disciplina all'interno di un locale abbiamo iniziato a fare consulenza a creare molti menu e la differenza poi dentro un locale di un menu costruito secondo delle tecniche secondo una disciplina secondo delle regole si vede ok rispetto a un pezzo di carta straccia come è nella maggior parte dei casi che cos'è quindi il menu engineering è una è una disciplina negli anni 80 quindi un po di tempo fa in italia è arrivato recentemente arrivato molto dopo come dicevo prima in italia arriviamo sempre un po un po un po in ritardo è stata una disciplina che è stata inventata da due grandi esperti dell'hospitality ok questi due esperti michael e donna smith cos'hanno 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 previsto diciamo in questa disciplina loro ritenevano che per un menu funzionale quindi per un menu strategicamente perfetto bisognasse lavorare su tre aspetti fondamentali il prima grafica quindi un menu graficamente perfetto grafica vuol dire che non una bella grafica si deve avere una bella grafica ma non è fondamentale grafica vuol dire che graficamente come posizioni drink e come li vado evidenziare come li vado a sottolineare deve essere perfetto quindi non si intende una grafica dove vado a farci i disegnini o vado a metterci le palme e io che bevo un drink in spiaggia non è quello ma è come vado a inserire ilicottero all'interno del menu il formato quindi la dimensione del menu ok non c'è solo il classico foglia 4 il menu un pezzo di carta 4 ci sono più formati i principali diciamo che sono tre c'è il menu a 4 modo pagina c'è il menu a 4 a 5 comunque monopannello monopagina c'è il menu b pannello quindi classico libricino che si apre oppure il formato a libro i tre principali poi ovviamente ce ne sono altri tra principali sono questi qui il formato libro è il classico sono i menù diciamo un po più dettagliati un po più lunghi terzo punto fondamentale è il copy non confondetelo col copyright ok quella è un'altra cosa ma il copy writing ok il copy è una disciplina che anche questa si studia ok è semplicemente in maniera molto semplice è come vado a scrivere come vado a raccontare all'interno del menu i miei drink quindi se il cocktail è graficamente messo bene il menu ha un formato corretto e la descrizione dei cocktail è inerente quindi è fatta correttamente descrizione non vuol dire come descrivo la ricetta non è solo quello descrizione raccontando il drink o raccontando il piatto all'interno del menu se lavoro bene su questi tre aspetti allora il mio menu mi darà tantissimi vantaggi ovviamente su cosa sul fatturato sul guadagno quindi a cosa serve questo menu strategi noi l'abbiamo chiamato il nostro metodo a influenzare le scelte del cliente quindi di base quei tre aspetti che abbiamo appena visto servono per indirizzare il cliente verso un drink indirizzare il cliente verso una scelta questa frase fondamentale è importantissima perché perché nel 90 per cento dei casi il chi crea il menu o il ristoratore o il barman crea il menu punto non è che crea il menu con l'intenzione di influenzare la scelta di un cliente vuol dire non è che crea il menu con l'intenzione di dire lo creo in modo tale che mi scelgano questa cosa e questo è un grave errore perché devo influenzare la scelta del cliente perché devo indirizzarla verso ciò che mi conviene quindi verso a quello che conviene al mio cocktail bar che cos'è che conviene al mio cocktail bar prima ancora appunto questa cosa mi porta a un aumento del fatturato perché l'abbiamo analizzata questa cosa infatti ritorno alla domanda che vi ho fatto che cos'è che mi conviene a che mi conviene vendere all'interno del mio cocktail bar cos'è che mi conviene a cosa mi conviene orientare il cliente ragazzi l'abbiamo visto l'abbiamo visto nel nel webinar precedente quindi se non è ancora sul cost analysis che abbiamo fatto prima vanno a vedere perché perché oltre a farti vedere come applicare realmente il cost analysis quindi come realizzarlo su carta con excel vi abbiamo fatto vedere che il cost analysis serve per trovare cosa per trovare i cocktail con una marginalità alta ok il cocktail con una marginalità alta i piatti con una marginalità alti i prodotti che vendo all'interno del mio locale con un'alta ma sono quei prodotti che devo andare a a vendere devo cercare di vendere quindi saranno quelli che all'interno del mio menu avranno un ruolo importante avranno un ruolo di protagonista ok quindi guardate il webinar sul cost analysis se avete ancora dei dubbi su quello che è il drink cost e su quello che è il concetto di marginalità perché è fondamentale senza quello io poi non posso andare applicare delle regole ben precise al menu quindi è fondamentale è fondamentale calcolare la marginalità dei miei drink che vi ricordo essere il prezzo di rivendita quindi quello che il prezzo a cui vendete i vostri drink a cui deve essere sottratto il drink cost quindi il cost analysis quello lì è il margine che vi dà ok non è il guadagno è il margine si chiama marginalità quindi una volta che io ho fatto il drink cost quindi una volta che io ho calcolato ho calcolato il margine dei miei cocktail e quindi so effettivamente ce li ho scritti ce l'ho nero su bianco quali sono i cocktail con una marginalità più alta una volta che io so quello ecco che inizia almeno strategi ecco che inizio a mettere mano al menu ecco che posso iniziare a mettere mano al menu quanti di voi hanno fatto un menu hanno messo mano a un menu facendo questi step secondo me pochi ok quindi cercate di farli il drink cost è una rottura di maroni il drink cost è una noia ci vuole della pazienza mettersi lì a usare xl una gran rottura di palle sì sono d'accordissimo ve l'ho già detto ma è fondamentale ok è fondamentale farlo una volta fatto quello ecco che arrivo al menu di base quindi la base meno strategi la base abbiamo chiamato la regola di base è che io 180 secondi per indirizzare il cliente cosa vuol dire si calcola si è calcolato nel tempo che con vari esperimenti su su sulle persone se non ci credete potete mettermi voi lì col cronometro a calcolare e a prendere il tempo di quanto impiegano mediamente diciamo i vostri clienti a guardare il menu ma di base è quello quindi la regola di 180 secondi cosa dice dice che un cliente di me gli impiega 180 secondi a guardare il menu quindi a prendere visione del menu e questo fa la sua scelta spesso e volentieri non la fa ok ma decide e sceglie in base a esperienze passate quante volte capita che andate a bere in un locale siete andati a bere in un locale vi sedete guardate il menù non trovate niente che vi piace quindi prendete il solito il classico cintonico oppure prendete il cocktail preferito il whisky sour o lo spritz questa cosa spesso la maggior parte delle volte è dovuta dal fatto che il menù è fatto male quindi il menù non indirizza in nessun modo a compiere una scelta ok e quindi succede che voi scegliete quello che tendenzialmente prendete di solito quindi io poco tempo per indirizzare il cliente questo tempo qui lo devo sfruttare nella maniera migliore questo tempo qui lo devo sfruttare nella maniera migliore e non riesco a sfruttare nella maniera migliore se applico delle regole ok che stanno la base della creazione di un menù ok quindi a disposizione circa tre minuti per indirizzare il cliente sul drink con la marginalità più alta di nuovo questo termine marginalità di nuovo questo termine diventa fondamentale quindi quando io so qual è il cocktail col quali sono i cocktail con la marginalità più alta io ho questa tempistica di media per indirizzare il cliente ok pensate che tre minuti è una statistica anche abbastanza alta ok è una statistica anche abbastanza larga perché se avete presente un po come funziona la scelta quando siete al ristorante ci avete il menù davanti e poi c'è quello l'amico che vi parla la cameriera che passa il telefono che squilla quindi siamo siamo distratti da tantissimi aspetti che circondano e quindi diamo pochissima attenzione poi al menu ok quindi il menu deve essere realmente fatto bene se voglio andare a influenzare la scelta di un cliente cosa vediamo con cosa iniziamo iniziamo intanto a dire quali sono gli errori da evitare quindi se lavorate in un locale che ha un menu e questo menu rientra in uno di queste di queste categorie sapete già che non va bene quindi non è un menu e applica le regole del menu strategy ecco allora la prima categoria l'altra volta che ho fatto le categorie delle citazioni dei barman questa volta vi faccio le categorie dei menu alla prima categoria troviamo il menu senza stile menu che secondo me hanno la parte dei locali ovvero un menu solitamente viene 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 fatto homemade ok quindi parlando tanto homemade vuol dire che si mettono lì lo fanno lo scrivono su un pezzo di carta oppure lo fanno utilizzando dei programmi i più famosi paint ok ma dopo a questo ci arriviamo quindi un menu che dice niente un menu che dentro c'è tutto ma non dice niente ok quello diciamo che la maggior parte dei casi nei locali trovo proprio il menu senza stile quindi classico pezzo di carta con sopra i miei prodotti con sopra quello che vedendo quello che offro punto fine alla seconda categoria troviamo i menu interminabili quindi menu che sono composti da un'infinità di drink ragazzi i menu interminabili li trovate ovunque quante volte vi è capitato di andare in in un cocktail bar aprire il menu e partire da vodka lemon gin tonic gin lemon vodka red rum e cola aperol spritz campari spritz eccetera 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 tant'è che uno al terzo drink chiude ok lo lascia lì e dice vabbè fammi il solito negroni ok basta menù interminabili dal cocktail bar così li potete trovare anche in pizzeria ragazzi quante volte sei andati in pizzeria avete aperto il menu e parte il menu parte da margherita rossa la focaccia la margherita margherita più salsiccia margherita più salsiccia diuster margherita più salsiccia sì è una roba è una roba orribile che non ha nessun senso perché se io vengo in una pizzeria vado in una pizzeria io lo so che fai la pizza margherita ok quindi non serve che me la metti in menu oppure mettimela in forma diversa mettimela descrivendola in maniera diversa mettila aggiungendoci e ne parleremo un tocco particolare unico che hai solo tu ok come posso distinguermi come posso distinguere quella pizza margherita se mai c'è un impasto particolare se mai c'è degli ingredienti particolari perché il pomodoro è quello che fa mia nonna è quello che da 30 generazioni è l'unico pomodoro inimitabile ok metteteci qualcosa di differente quindi menu interminabili sono sono quelli più quelli più problematici ok ancora di più di quelli senza stile perché almeno quelli tu metti lì due tre robe non ci metti niente niente e quindi riesce un po' a tutire ma i menu infiniti quelli lunghissimi sono 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 realmente realmente problematici poi abbiamo chi vede oltre il futurista ok che il menù non ce l'ha quindi volte siamo entrati nei locali senza il menù quindi oppure oppure chi diceva al menù era il cameriere anche questa cosa qui è un se il cameriere non è formato se il cameriere non è preparato quindi se non abbiamo formato apposta per farlo è veramente un supplizio il cameriere che salire ti elenca tutti i piatti e tu lì nel giro di poco devi prendere una scelta devi decidere perché non sai mica poi poi come funziona sempre dici non mi ricordo cosa hai detto prima ho detto i capelletti con il tortellinico ok quindi se non ho formato il cameriere per farlo io il menù ce lo devo avere che è fondamentale e poi ci abbiamo in ultimo il menù troppo sofisticato quindi menù cocktail menù troppo 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 elaborati perché cosa si ricade in questa categoria si ricade nella categoria dei barman che presi dalla foga di fare il primo menù presi dalla foga di inserire i propri cocktail nel menù o di inserire della roba all'interno del menù iniziano a scriverci della roba incomprensibile e si scordano che i loro clienti non sono barman e quindi se ha un cliente gli iscrivi il cinar non sa cos'è il cinar che quindi scrivere e parlare in maniera dopo lo scritto in maniera potabile si dice è fondamentale quindi quelli sono 4 4 cose da evitare di di fare se voglio iniziare ad approcciarmi al menù strategie a mettere mano al menù consigli per evitare gli errori ok quindi andiamo a vedere un attimo come devo andarlo a realizzare questo menù quali sono i consigli principali il primo è cerca di essere originale quindi al posto di fare che si contrappone un po al menù senza stile ragazzi se voglio fare un menù di base ci deve essere una storia ci deve essere un tema ci deve essere qualcosa da raccontare ok in un locale a cui abbiamo fatto una consulenza era un locale che si basava come tema di fondo diciamo aveva il gioco il gaming in quel locale abbiamo creato un menù con una storia con un tema sul gioco e quindi sui videogames e quindi su una parte un aspetto un po nerd diciamo c'era un menù abbiamo creato un in un altro cocktail bar abbiamo creato un menù tutto in stile giapponese ok con una storia giapponese da raccontare con dei cocktail che raccontassero quella storia con ingredienti giapponesi era un menù differente da altre parti poi può piacere può non piacere ma sicuramente è originale sicuramente è differente dal cocktail bar di fianco ok quindi quello che dobbiamo fare è cercare di creare qualcosa di diverso qualcosa che non sia replicabile da quello di fianco e vedete quello di fianco fa le stesse cose il locale di fianco fa le stesse cose c'è un problema ok quelle cose che mettete nel menù dovete averle solo voi cosa fondamentale quindi cercate di essere originali a piccolo appunto per essere originali anche qui ci vuole ricerca ragazzi ci vuole non è che bisogna essere per forza dei creativi non è che bisogna essere per forza degli illuminati ci vuole della ricerca in più delle volte quando dobbiamo creare un menù io e angelo ci chiudiamo iniziamo a ricercare argomenti su argomenti andiamo in libreria cerchiamo i libri cerchiamo delle nozioni che possono essere interessanti ci vuole un po di ricerca ci vuole un po di impegno su questa cosa non piove dal cielo l'idea ok secondo errore secondo consiglio importantissimo non incolonnare mai i prezzi evitate in leggete evitate la lista della spesa cosa vuol dire la lista della spesa è lo scontrino classico con tutti i prezzi incolonnare con prodotto prezzo prodotto prezzo prodotto prezzo prodotto prezzo eccetera eccetera questo metodo qui a parte essere estremamente noioso dal punto di vista visivo quindi all'occhio è estremamente noioso leggerlo quindi prendere prendere visione di questo menù inoltre mette a un grave problema una disposizione di questo tipo quindi un'esposizione a colonna adesso vi faccio vedere perché così ce l'avete davanti una disposizione a colonna questo menù che abbiamo preso su internet una disposizione a colonna di questo tipo ok ha un gravissimo problema che è quello di mettere in risalto il prezzo più alto subito ok a colpo d'occhio appare il prezzo più alto tutte le volte quindi io vedo lì prendo ok 15 euro ammazza quanto questa cosa crea problemi perché noi il prezzo più alto non lo dobbiamo mettere in risalto anzi li dobbiamo nascondere quindi evitate questa disposizione evitate questa disposizione della lista della spesa di incolonnare i prezzi perché vengono subito vengono subito visti quello più alto quello il piatto più costoso l'occhio ricade lì e su quello meno costoso quindi su quello su cui probabilmente abbiamo un margine minore quindi non devo incolonnare i prezzi non devo fare la lista della spesa devo cercare di disporli in maniera tale che sia funzionale e che mi vada l'occhio mi vada a cadere su un piatto ad alta marginalità su un cocktail ad alta marginalità ok altro consiglio importantissimo è le foto dentro questi menu mettete lì in modo tale non nello schizzetto del drink e non abbiamo visto dei menu c'erano di fianco al di fianco al cocktail c'era l'immagine copia e incolla attaccata presa su internet c'è quella roba lì è veramente ci sono della roba che è inguardabile ragazzi le foto cosa importante abbiamo sottolineato mi raccomando cerca di utilizzare immagini vostre quindi investiteci un po di tempo investiti un po di tempo per creare delle foto fighe delle foto carine da utilizzare dentro il menu questo vale per i copteri questo vale per i piatti perché perché la foto ti proietta dentro il piatto se mi metti una foto di un panino enorme bello lì fatta bene succolento col bacon la bisteccazza eccetera eccetera io sono invogliato a prenderlo lo vedo ok è chiaro che poi mi deve arrivare uguale perché se poi mi arriva la metà è un problema stessa cosa con i cocktail ok metteteci la foto del drink fatelo vedere sto cocktail come come non è mettetevi nei panni dei vostri clienti ok i clienti non sanno nulla voi scrivete il menu in maniera estremamente complessa non lo raccontate non lo spiegate ok poi vi lamentate se non lo comprendono se non prendono i vostri drink ragazzi il cocktail vanno scritti semplici e le foto aiutano tantissimo a aumentare le vendite dei cocktail e a vendere a vendere ovviamente non devo mettere la foto su tutti i drink perché probabilmente poi non ci sta non ci sta non mi serve un libro un dizionario non un menù ma devo andare a mettere su se mai sui cocktail che voglio vendere di più quindi una foto di fianco un bel di una bella foto di fianco un drink aumenta le vendite di quel drink ok mi convince a prenderlo così vale per qualsiasi altro piatto ok quindi la foto doveva messa va messa di fianco a cocktail ad alta marginalità ok mi raccomando non foto prese su internet ne abbiamo visti migliaia di non migliorano però tantissimi cocktail bar con foto prese su internet riciclato devi dire qualcosa? ho sentito che stai no devo specificare un attimo che anche se facciamo delle foto nostre l'importante è farle fatte bene cioè nel senso fare una foto con il telefono e dire che è nostra sì è nostra ma poi se fa cagare cioè fa cagare quindi a suo punto è quasi meglio non metterla questi sono poi dei consigli ragazzi quindi non per forza adesso tutti i vostri menu devono avere una foto di un drink all'interno o più foto quindi può essere un'opzione ci sono tanti consigli che possiamo analizzare può essere un'opzione inserire delle foto se decidete di farlo a mio avviso affidatevi sempre a una professionista a un professionista quindi fare delle foto fatte bene rispetto a foto fatte male fa la differenza quindi state attenti non vi improvvisate fotografi tutto qui Gabri sì tante volte tante volte si investe il budget quindi si investe e si spendono soldi in cose non essenziali quindi quando tipo non so comprarsi maniacali a comprarsi lo shaker da 6.000 euro quando posso investirne 200 in un'ottima fotografa a fare delle che mi faccia delle belle foto che poi se le metto nel menu o non le metto nel menu va bene ok io vi consiglio di metterle se non le mettete comunque le potete utilizzare per sponsorizzare il vostro locale quindi per raccontarlo per farlo vedere quindi non sono mai non sono mai buttate attenzione cercate di evitare di fare questi due errori quindi abbiamo visto un po' di consigli abbiamo visto un po' di errori queste sono due cose che ci teniamo tanto a sottolineare perché sono le due cose che vediamo fare di più sono le due cose su cui ci battiamo un po' di più perché poi quando andiamo a fare consulenza convincere un ristoratore convincere un imprenditore ad affidare il proprio menu a un grafico diventa veramente una solfa infinita ragazzi non improvvisatevi grafici ok perché perché fare il grafico è un lavoro ok e rientra secondo me nello stesso discorso che faceva prima Angelo che facevamo prima di investire investire un po' di budget in maniera sensata quindi al posto di comprare la sedia con i diamanti in velluto all'interno di un locale vi investo in un grafico adesso ragazzi sto scherzando però non costa non costa 10.000 euro affidare il menu a un grafico però realmente vi ovviamente deve essere indirizzato il grafico ok non è che gli date il menu e dite fammelo e creami il menu il menu perfetto va indirizzato ma se lo sapete indirizzare fate fare un grafico fate fare il menu a un grafico mi raccomando perché una delle cose che vediamo di più è fare il menu realizzare il menu con word ok e con paint se non ci credete basta che andate su google ok basta che andate su google e se non lo sapete se voi iniziate nella barra di ricerca vi butta giù tutte le ricerche più diciamo quelle le ricerche maggiori che vengono fatte dalle persone se scrivete creare un menu scrivere un menu eccetera eccetera la prima cosa che viene fuori è scrivere un menu con word cioè questo vuol dire che le persone cercano come scrivere come fare un menu con word cioè ragazzi questa cosa qui è una roba folle è una roba assurda perché non non dedicare una piccola e realmente nella gestione di un locale è una fetta minima quella del pagare un grafico per fare un buon menu ok non dedicare una piccola parte di budget a questo è da folli quindi non fate il menu con word o con paint anche se siete dei professionisti di paint ok non fatelo affidatevi a un grafico oppure se siete dei fenomeni di photoshop video editor e tutta quella roba lì fatelo voi se siete sicuri di voi stessi ma cercate di affidarvi a una persona competente non essere tecnico nel descrivere i cocktail ve l'ho già iniziato a dire prima ve l'ho anticipato prima scrivi potabile ok scrivi comprensibile adesso vi faccio vedere un esempio ok cercate di scrivere i cocktail in maniera comprensibile perché non ci avete davanti tutti i barman le persone che vengono al vostro locale non sanno e non sanno cos'è il san germen ok non scrivete san germen nella ricetta scriveteci liquore e fiori di sambuco scriveteci una descrizione più accurata una descrizione comprensibile andiamo a fare un esempio questo esempio di copy ok non è il copy ragazzi non è solo questo questo è un 1% del copy che però potete già iniziare ad applicare da subito e scoprirete che le persone sono molto più propense a a scegliere e a prendere i vostri drink perché perché non si sentono stupide nel leggerlo quindi non si sentono ignoranti quindi vanno non non vanno sul su quando quando leggono un drink che non lo capiscono le persone vanno sul sicuro vanno su quello che conoscono vanno su quello su cui sono certi su cui hanno certezze quindi succede che poi il pot del vostro menù non li prendono perché non li capiscono non sanno cos'è il pescia il pecho bitter il pechaus c'è chi dice pechaus c'è chi dice peiche cos'è il pai quindi lo chasalet il cinar ok questo è un esempio di cocktail con che abbiamo che abbiamo creato che abbiamo messo lì voi probabilmente li conoscete questi prodotti il 90 per cento delle persone anzi tutti quelli che non fanno questo messiere no ok quindi un cocktail del genere come lo devo scrivere lo devo scrivere in questa maniera ok il premium bombay ok ci sottolineo il gin posso sottolineare la dicitura premium ok per dare più valore più importanza quello che è il drink e il distillato cinar diventa amaro al carciofo che io comprendo ok anche se non sono un esperto barman comprendo che amaro al carciofo so cosa vuol dire so cosa il carciofo so cosa è un amaro ecco che chasalet diventa vermut dolce bitter campari l'abbiamo tenuto così abbiamo aggiunto la parola bitter ok anche perché diciamo ci sono alcuni termini che sono internazionali sono sono campari a però sono cose che ormai conoscono tutti pesce bitter l'abbiamo trasformato gocce di bitter floreale per esempio ripeto questo non è copy questo è un un per cento di quello che si può che si può poi realmente fare col copy ok però si può iniziare da qui si deve iniziare da qui e ragazzi noi veramente non so se angelo non so se ti ricordi siamo quando siamo andati al locale a locale famosissimo non diciamo quale però un locale famosissimo dove sul menù c'era il il cocktail con il carbone mi ricordo tequila carbone carbone vegetale e non so cos'altro ha scritto dei termini qualcosa che abbiamo fatto veramente che poi aveva scritto tra l'altro sul gruppo aveva scritto tutti i nomi dei gin aveva scritto tankerai in maniera sbagliata tankerei aveva messo tutto scritto male con dei termini incompressibili quindi cercate di farci attenzione perché in primis non sapete le persone che vi capitano davanti semmai c'è veramente qualcuno che se ne intende che vi piglia per il culo e poi da voi non ci torna più oppure diciamo l'errore più grave è quello che le persone non capiscono i vostri drink. L'ingrediente dovete sempre chiedervi se una persona non del mestiere potrebbe capire prendete non so se avete un vostro parente esercitati io mi esercito con mia mamma prendete prendete fate andate da lei chiedete non da mia mamma chiedete a qualcuno che non è il mestiere chiedete cina lo conosci no punto fine non va messo nel menù ok se non lo capiscono non va messo nel menù quindi dovete cercare un metodo più semplice di scrivere i vostri drink. Il menù da solo non basta ok come vi dicevo già prima come vi anticipavo prima il menù da solo non basta sicuramente è il iniziare ad applicare alcune di queste cose vi da già una marcia in più rispetto a tantissimi altri locali ma quello che vi consigliamo di fare quello che dovete iniziare a fare e ci vuole anche lì molta moglia molta pazienza perché spesso il titolare o chi ci abbiamo sopra non prende in considerazione queste cose ovvero fare formazione interna fare formazione del personale non gli da peso quindi quello che vi consigliamo noi è cercare di indirizzare provare a convincere in maniera non fatta botte ok ma in maniera funzionale cercate di convincere il vostro titolare che è importante fare formazione interna quindi dedicare non lo so un'ora prima dell'inizio della giornata lavorativa o un'ora dopo la fine della giornata lavorativa tipo adesso che si attacca che i locali chiudono presto posso dedicare questo tempo a fare formazione del personale o successivamente quando riapriranno semmai al posto di attaccare alle 5 il martedì si va tutti quanti alle 4 e quest'ora qui la dedichiamo a fare formazione interna ok fare formazione vuol dire che voi dovete solo voi dovete far formazione ognuno semmai avrà qualcosa da qualcosa da suggerire un problema che è venuto fuori voi fate formazione sul menu un cameriere vi può far notare degli errori che ci sono nel durante il servizio comunicazione ragazzi comunicazione e formazione sono due cose che mancano dentro i locali ok cercate di portarcele cercate di riuscire a parte persone in questi giorni vi sto mettendo tantissimi articoli di come di come si diventa un buon manager ok di base c'è la comunicazione di base se non so comunicare se non so parlare con le persone e se alla prima critica finisce che mani addosso è un problema ok spesso i barman almeno la maggior parte di quelli con cui mi sono trovato a lavorare io sono estremamente arroganti molti molti e quindi bisogna cercare anche un po di livellare quello che è la nostra personalità e fare comunicazione comunicazione formazione ok se fatte correttamente se fatte correttamente sono cose a costo zero ok perché si possono fare anche se uno ha della buona volontà se avete della buona volontà si possono fare anche non retribuite dedicare un'ora ok a settimana a fare questa cosa e vi portano tantissimi benefici che sia voi personalmente è perché avete una crescita personale sono fatto con un obiettivo ben preciso vero quello di semmai migliorare la comunicazione aumentare la vostra le vostre tecniche manageriali o crescere sotto quell'aspetto non sono non è mai tempo buttato non è mai tempo buttato quindi importante prequel abbiamo visto gli errori da evitare abbiamo visto i consigli da iniziare applicare subito sul menù ok quello fare prima di arrivare a questo quello che bisogna fare prima di mettere mano al menù è un'attenta analisi la prima cosa ve l'abbiamo già spiegata nel webinar precedente ovvero il drink cost ma ovviamente il drink cost questo se avete già un menù e quindi se avete già dei cocktail avete già vedere un menù fatto e quindi lo dovete rifare andate a calcolare nel drink cost solitamente se no si fa si organizza prima al menù si imposta al menù poi si va a creare il drink cost secondo il budget che da il proprietario e eccetera eccetera tutti i passaggi quindi oltre al drink cost è fondamentale fare un po di analisi la prima è il target di persona cui ci vogliamo riferire questa cosa ok questa cosa tendenzialmente la il target la deve dare una direzione che da il locale e prima ancora c'è un imprenditore quindi è l'imprenditore che ha aperto un locale e quando apriva il locale dovrebbe aver pensato che è un locale per chi per quali persone che è di leggete la definizione di target che è un gruppo definito di persone la logica il target è il primo punto fondamentale per per alla base dell'imprenditoria quindi un buon imprenditore apre un locale che apre un locale pensando a cali per chi perché se un locale per tutti non è un locale ok o in locale che va male un locale che vende poco un locale che probabilmente fallirà non deve essere un locale per tutti perché è importante questa cosa perché ovviamente per mettere mano al menu io devo sapere a chi mi riferisco quindi è chiaro che se il mio locale ha un target di persone di universitari che escono con 10 euro in tasca e con 10 euro vogliono ubriacarsi è chiaro che io devo puntare a quelle persone creare un menu super funzionale per quelle persone ok se il mio locale ha come target degli avvocati ok o comunque persone di una certa età persone con parecchi soldi persone che gli piace mostrarsi è chiaro che andrò lavorare su altri tipi di cocktail e altri è un altro tipo di menù quindi di idea di menù che è fondamentale vi dicevo prima uno dei locali a cui abbiamo fatto una consulenza era quello sul gaming aveva un target di persone nerd ok quindi persone appassionate al gioco persone che sono conoscono i videogames e conoscono tutti i dettagli tutti i nomi esempio io ci capisco ben poco su quello e quindi per creare quel menu io angelo penso che anche angelo non è un grande un grandissimo nerd abbiamo dovuto specializzarsi andare a cercare vedere fare perché perché per andare a trovare abbiamo messo dentro un sacco di chicche di termini particolari perché perché era riferito a quelle persone è chiaro che essendo un target esempio non per noi se ci andavo io aprivo quel menu non ci capivo niente ok però il target era diverso e quindi abbiamo puntato su quel target quindi perché devo avere ben chiaro il target di riferimento perché ok renderà più soddisfatti i tuoi clienti perché se io ho un locale ben preciso nella maggior parte dei casi ragazzi considerate che i locali non hanno un target di di riferimento quindi non hanno un target definito di persone i locali generalmente sono locali e quindi per chi è il tuo locale un po per tutti quindi dal 18enne al 70enne prendo tutti ok cerco di prendere tutti cosa succede alla fine non prendo nessuno quindi se riesco a avere ben chiaro il target del mio locale e lo devo cercare ecco che posso andare a realizzare un menu su quel target e i miei clienti ovviamente saranno più soddisfatti perché i clienti di quel cocktail bar basato sul gaming che andavano lì erano sicuramente molto contenti di vedere un menu creato apposta per loro ok quindi un target ce la danno queste tre recensioni che vi ho messo che ho voluto sottolineare perché sono tre recensioni che ho trovato in internet e sono ci fanno capire molto bene di cosa vuol dire target sbagliato prima recensione posto fantastico servizio ottimo piatti squisiti super consigliato ci tornerò sicuramente altra recensione locale bellissimo servizio veloce piatti molto buoni prezzi però troppo alti terza terza recensione proprio pessimo che speso 50 euro a testa troppo prezzi spropositati non ci tornerò mai più sono tre persone che però sono andate tutte e tre nello stesso locale quindi qual è il problema il problema che due di queste tre persone in quel locale nel vostro locale non ci devono venire perché poi dopo cosa succede che il vostro menù diventa un menù fatto male diventa che i cocktail costano troppo diventa che avete avete sbagliato un po tutto quanto quindi sbagliare il target è veramente un grave problema poi per tutti gli step che vengono dopo qual è il target giusto sicuramente è il primo quindi io devo andare a capire esempio in questo caso cosa posso fare posso vedere e analizzare la persona che ha lasciato questa recensione che tipologia di cliente devo andare a cercare le persone che vengono nel mio locale ci trovano qualcosa di particolare ovviamente se ha un target ben definito questo è il cliente ideale quindi dentro il nostro locale e su cui andremo a creare un ottimo menu quindi il cliente ideale è quella persona per cui i tuoi prodotti i tuoi servizi rappresentano il massimo valore e quindi quando comprerà sarà sicuramente felice del prodotto ok sia in termini di prezzo sia in termini di soddisfazione personale se ti rivolge a tutti e cerchi di accontentare tutti finirai per non piacere e non accontentare nessuno il target vi prendete anche lì un po di tempo e cercate di individuare di individuare il vostro cliente perfetto perché perché una volta che ho capito a chi mi riferisco posso poi andare a creare un menu ottimale ovviamente se avete lavorati con un imprenditore e in un locale che ha già un target ben definito basta che lo chiedete al vostro imprenditore se già ce l'ha in testa oppure se ha un target ben definito probabilmente si vedrà quindi questi esempi sono alcuni dei punti che potete andare analizzare per cercare per creare per capire il vostro target di riferimento quindi il l'età che genere vi riferite se riferite a dei ragazzi a delle persone di mezza età se sono più donne più coppie se mai un locale per coppie quindi andrò a creare un menu per coppie se mai è un locale per single posso lavorare su quello se mai sono avvocati se mai sono calciatori iniziare a ragionarci ok è sicuramente molto importante per andare a creare e per avere molte idee su cosa organizzare cosa su cosa basare il proprio menu il format locale targettizza la clientela ovviamente come ho detto prima quindi se io bene in testa solitamente il primo passaggio quindi quando apre un locale è sicuramente aprire un locale con a chi mi voglio riferire quindi qual è il mio target qual è il problema che voglio risolvere a quelle persone una volta che ho capito quello ecco che crea un locale adatto per quelle persone nella maggior parte dei casi voi entrate già in locali già fatti già strutturati quindi ovviamente la tipologia di locali influenza molto il target se è una discoteca avrà un target diverso che se è un locale in locale suite in cima o una terrazza panoramica ok in cima un grattacielo oppure se è un'osteria se è un co ok ovviamente questa cosa è da prendere molto 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 alla leggera perché ad oggi esempio in locali come l'hotel ok al un po di tempo fa gli hotel erano visti come locali di lusso e quindi locali dove ci andava solo un certo tipo di clientela ad oggi ci sono prezzi accessibili a tutti quindi dentro un hotel esempio se penso di fare o di fare un servizio di offrire su persone altospendenti in realtà mi sto sbagliando perché dentro agli hotel adesso anche una persona che non ha un gran budget può andare a fare un weekend in un hotel fighissimo quindi anche questa cosa da tenere da prendere molto con le pinze una volta che ho capito i punti precedenti ecco che posso andare a ragionare sul prezzo di rivendita questa cosa la devo fare ovviamente la deve fare il mio imprenditore ok noi andremo a fare noi andremo a fare il dream cost che è in base a il budget che mi dà il nostro imprenditore i prezzi non devono solo coprire i costi garantire un margine di guadagno ma essere in linea col target di riferimento quindi come vediamo già detto nel webinar sul dream cost questo 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 punto è compito dell'imprenditore quindi creare il prezzo di rivendita giusto su questi aspetti è compito dell'imprenditore ma è importante che voi li sappiate perché se volete diventare degli ottimi manager dovete saperle queste cose dovete sapere cosa c'è prima di arrivare a creare un buon menu ci sono queste cose quindi creare il prezzo di rivendita è compito dell'imprenditore dopo un attento business plan la nostra attenzione si deve focalizzare invece su tipologia della propria clientela quindi che clienti ho qual è la percentuale di clienti qual è il mio target di riferimento e il cost principalmente ok detto questo ti non abbiamo finito lascio la parola ad angelo ok quindi ti assegno come relatore così puoi condividere la slide ragazzi mi raccomando se avete dei dubbi su questi aspetti ok come vi ho detto prima cercheremo di dedicare buona parte di questo webinar alla sessione domande risposte quindi quindi scrivete ok segnatevi lì tenete sotto cartepenna allora ci vedono le tue si vedono sì ci vedo allora aspetta che non le vedo io quindi ragazzi un secondo perché ho perso le mie slide bene allora intanto ho visto qualche domanda rispondo a qualche domanda allora sarà possibile rivedere il webinar sì ragazzi come l'altro ci sarà la registrazione per tutti quelli che si sono iscritti hanno partecipato visto anche che tante persone a partecipare e quindi sì ci sarà la registrazione gabri si si vedono le slide si ragazzi si si vedono si vedono si la registrazione ragazzi la rivedrete sarà possibile rivederlo come l'altro quindi riguardatevelo poi con calma su quella parte lì sono andato veloce su qualche punto ci sei? io sì vado? ok allora lascio la parola a nanzio ragazzi perfetto ragazzi ci siamo divisi tutti questi webinar in questo modo inizia gabri completo io allora spero di fare una lezione un po' meno tra virgolette noiosa dell'altra volta ma più pratica che cosa? non pratica come l'altra volta esatto sì noiosa pratica quando si parla di costo analista non è mai bellissimo quindi che cosa facciamo adesso? Gabriele ci ha spiegato un po' tutti i concetti gli errori che si trovano sul menu i consigli per non continuare a fare gli stessi errori ma prima di analizzare la mia parte volevo aggiungere una piccola cosa a quello che ha detto Gabriele che non vi stiamo dicendo che fate solo cazzate ragazzi quindi cioè il menu può seguire cioè può avere delle piccole cose da come errore quello che dovete fare voi è riuscire a risolverle quindi non per forza stiamo dicendo che tutti i vostri menu che avete fatto fino adesso sono completamente sbagliati ci sono sicuramente dei piccoli errori su cui possiamo migliorare allora quindi Gabriele ci ha parlato un po' di tutta la parte di ragionamento che c'è dietro arrivando a un punto che ho un tema quindi ho creato un tema originale del mio menu che cosa devo fare? Devo andare a realizzare i drink quindi entra realmente in gioco quella che è fino ad oggi la parte che ci interessa un po' di più a che cosa serve creare dei drink? serve per andare a differenziarci e in questa parte che curerò io andremo a capire come riuscire a farlo seguendo però una logica ben precisa per fare questo c'è bisogno di uno storico ragazzi che cosa significa uno storico? ogni locale come dice la slide deve avere uno storico di drink venduti questo nel 99% anzi posso confermare nel 100% dei locali che ci sono soprattutto in Italia non avviene ne abbiamo parlato tantissimo la scorsa volta quello che vi posso consigliare, quello che vi possiamo consigliare è da quando riapriremo perché ad oggi questa è una situazione un po' anomala da quando riaprirete i vostri locali e quindi tornerete dietro a un banco bar iniziate a segnare quali sono i vostri drink più venduti come si può fare? se avete un registratore di cassa tecnologico lo fa da sé quindi se avete già un registratore di cassa che ha questa funzionalità ben venga se non ce l'avete quindi avete una cassa manuale dovete trovare un modo di far segnare o alla vostra cassiera o proprio voi stessi i drink che vengono richiesti questo perché avere uno storico di drink venduti è la regola fondamentale per rendere un menu strategico senza uno storico non è possibile capire come realizzare delle stelle, dei cavalli da tiro e nelle sfide nel webinar scorso ragazzi che abbiamo analizzato il drink cost abbiamo visto una matrice quindi un piccolo grafico con quattro tipologie di drink stelle che sono quei drink con alta marginalità e alta popolarità cavalli da tiro che sono quei drink super bevuti ma con una bassa marginalità le sfide che sono un'alta marginalità ma con una bassa vendibilità quindi su cui investire del tempo e i flop i flop come da slide se non ho uno storico non riesco neanche a capire quali sono e qual è il flop del mio menù personalmente quando ho lavorato senza calcolare i drink che vendevo non avevo proprio il controllo di quello che utilizzavo, quello che vendevo, quello che restava fermo, quanti me ne chiedevano e via dicendo quindi senza questo storico non è possibile ingegnerizzare un menu la prima domanda da porsi quindi qual è? quali sono i drink più venduti nel mio locale? tra classici quindi dovete analizzare anche le richieste che il cliente vi fa come April Spritz, Gin Tonic, Whiskey Sour, Vodka Sour e via dicendo e quali di quelli presenti nel vostro attuale menu che cosa vuol dire? che i clienti ragazzi come diceva bene Gabriele prima non ordinano sempre dei drink dal menu va bene? quindi se voi ad oggi avete un menu con delle vostre rivisitazioni quindi con dei vostri twist on classic, dei drink creati apposivamente da voi dovete sapere più o meno quali sono quelli più venduti quindi oltre a calcolare quali sono i classici più venduti dovete analizzare anche i drink presenti sul menu il risultato ovvero i numeri che vi usciranno indicano esattamente la via da seguire per la creazione delle vostre stelle ovvero quei drink con un'alta marginalità e un'alta popolarità come si fa? qui vi ho messo degli esempi ma che sono realmente gli esempi dei numeri messi così di una decina di drink Gin Tonic in un arco di sei mesi per farvi un esempio ho venduto nel mio locale 3.000 Gin Tonic 2.500 Moscow Mule, 2.200 Spritz quindi fino ad arrivare ad altri set che vanno ad indicare altri drink che vengono chiesti random va bene? una volta che voi avete questi drink questi numeri scusatemi si può iniziare a ragionare questi numeri sono appunto la base da cui iniziare per realizzare un menu strategico qual è il nostro compito? il compito nostro ragazzi ovvero vostro sarà quello di trasformare i drink più venduti nelle vostre stelle chiaro se nel mio locale mi sono accorto che vendo 3.000 Gin Tonic in sei mesi che poi possono essere di più possono essere di meno vi ripeto che è un esempio devo capire come trasformare quel Gin Tonic in una stella bene se faccio nel mio locale un Gin Tonic con B-Feeder B-Feeder e Schwab's Tonic che è il Gin Tonic più buono del mondo a mio peso come faccio a trasformarlo in una stella devo iniziare a ragionarci per trasformare un Gin Tonic semplicissimo col B-Feeder in una stella devo andare a creare dei drink diversi dalla concorrenza ma studiati esattamente sul gusto dei vostri clienti ragazzi se ogni menu lo studiate sui vostri gusti su quello che vi piacerebbe inserire nel vostro menu perché ho visto questa preparazione ho visto questo ingrediente ho provato quest'altro ma al vostro cliente quell'ingrediente non piace è inutile che voi lo andate ad inserire quindi la prima cosa che devo fare è analizzare i gusti del cliente se ho chiaro i gusti del cliente e quindi i numeri perché poi alla fine sono i numeri che mi fanno capire quali sono i gusti lì inizio a creare i miei drink questo ti permetterà di fare che cosa? di vendere un drink a un prezzo maggiore per aumentare il ricarico quindi la marginalità e farlo diventare una stella che cosa abbiamo unito? abbiamo unito l'alta vendibilità a un'alta marginalità ovviamente ragazzi questa non è una non è legge se il mio gin tonic Bipiter & Tonic ne vendo 3.000 se io lo vado ad inserire in maniera differente sul mio menu probabilmente sarà una stella ma probabilmente no quindi sta tutto a voi saper rendere quel drink unico come lo trasformo un grande classico come un gin tonic in un perfetto twist on classic ci sono diversi modi tutti però ragazzi si basano su un concetto ben preciso che è l'equilibrio senza equilibrio ragazzi tutti i drink che andrete a realizzare partendo da un grande classico non riuscirete in nessun modo ad conquistare i vostri clienti perché se io vado a lavorare su un twist di un negroni ovvero un'oncia di gin un'oncia di vermut e un'oncia di campari che cosa succede? che se io vado a sbilanciare estremamente gli ingredienti che ci sono all'interno perché voglio inserire per forza un ingrediente che a me fa impazzire e metto 15 ml quindi mezzo oncia di gin 60 ml di vermut e 15 ml di bitter con il frangelico per farvi un esempio non è più un negroni ho spezzato quell'equilibrio perfetto che fa innamorare un cliente fa innamorare il cliente di un drink ben preciso quindi tutti i vostri drink quando li andrete a creare si devono basare esattamente su questo concetto che è l'equilibrio quando si va a creare un drink ragazzi quindi prima di arrivare a pensare agli ingredienti da inserire dobbiamo analizzare questi tre punti in primis partiamo un po' a monte e torniamo un po' a quello che ha detto Gabriele ogni menu deve avere un tema il tema ragazzi ci aiuta alla ricerca di tutte le informazioni per creare dei drink che cosa dobbiamo creare su un drink dobbiamo partire da una storia da una storia di ispirazione ragazzi che sia il videogioco che sia il viaggio perché il menu è tutto improntato sui viaggi uno sugli animali ad oggi se ne vedono veramente tantissimi quindi quello che devo fare è trovare una storia una volta che trovo la storia ragazzi da tutte le piccole informazioni che riesco a tirar fuori riuscirò ad avere l'ispirazione per il nome quindi storia nome una volta che io ho scelto il nome ho scelto la storia ho molta più libertà di scelta degli ingredienti perché tutti gli ingredienti che io andrò a scegliere si baseranno sulla storia che ho creato o sulla storia che c'è dietro questo drink che cosa succede? succede che riesco e riuscirete a fare un drink con più forza ragazzi se un drink ha una storia un nome studiato ha tutto fatto nel modo giusto anche venderlo al vostro cliente sia sul menu che a voce diventa molto più semplice perché voi sapete che studio c'è dietro quel drink quindi tema storytelling quindi tutta una parte di storia nome del drink e infine gli ingredienti quando arrivo agli ingredienti ragazzi inizio a prendere ispirazione voglio fare un twist on classic sul Necroni basandomi su questa storia lo chiameremo in questo modo inizio a fare la ricerca degli ingredienti quando faccio la ricerca degli ingredienti ragazzi devo basarmi tantissimo su quello che è l'obiettivo del drink che cosa lo voglio far diventare? lo voglio far diventare un cavallo da tiro o una stella? qual è il target? qual è la zona del locale? qual è il prezzo di rivendita che devo avere nel mio locale? quindi devo analizzare in precedenza tutti quegli aspetti che vi ha elencato Gabriele perché se io vado a creare uno storytelling un nome e iniziare a scegliere gli ingredienti per poi venderlo a 12 euro ma la mia clientela è totalmente universitaria che prende i drink a 2,50 euro sto sbagliando tutto praticamente va bene? quindi ci dobbiamo basare su tutto quello che abbiamo visto prima e lavorare di conseguenza iniziamo a parlare di drink proprio come farli praticamente ragazzi a mio avviso quando dovete approcciarvi vi siete già approcciati ognuno di voi avrà delle esperienze diverse quando dobbiamo andare a rivisitare quindi a fare un twist on classic di un drink classico perché se ci pensate ragazzi anche se potete pensare tutte le combinazioni più assurde del mondo analizzando dettagliatamente un vostro signature drink come ci piace tanto chiamarlo vi accorgerete che assomiglierà in qualche modo a un classico già esistente se vado ad utilizzare un drink a creare un drink con una parte di alcol un liquore, uno scirofo, una parte di agrume e una spuma ho fatto un signature fantastico poi vado a vedere che cos'è un sour con una spuma sopra chiaro quindi il signature che ci può venire in mente partendo da una storia e creando il nome parte nel 99% da un classico per questo motivo esistono vari modi per creare questi twist on classic il primo è il twist verticale che andremo ad analizzare tra poco secondo twist orizzontale terzo twist obliquo o diagonale è indifferente evoluzione del twist on classic un po' come ci piace elaborare a noi i drink e infine per esaltazione di un ingrediente tramite che cosa? le nostre preparazioni il primo twist l'esempio che ho voluto fare è sul Negroni ragazzi il Negroni è il drink più twistato al mondo ci sono state proprio delle ricerche che attestano questo quindi è proprio il drink che a noi bartender ci piace andare a twistare maggiormente è composto da gin, bitter e sweet vermouth ovvero un vermouth rosso tutto in parti uguali per realizzare un twist verticale ragazzi bisogna semplicemente andare a cambiare un ingrediente quindi in questo caso ho sostituito del gin con del calvados ma che abbia lo stesso compito il gin che compito ha in Negroni ha quello di dare forza alcolica e ovviamente del gusto il calvados che cosa ha? ha il compito di dare forza alcolica ma ha un gusto diverso quindi già fare questa piccola sostituzione che è veramente molto semplice ed è un drink veramente molto molto buono vado a realizzare un twist verticale se invece parlo di twist orizzontale ragazzi in questo caso l'esempio ve lo faccio sul boulevardier che cosa bisogna fare? bisogna andare a smezzare mettiamola così un componente della ricetta originale con un altro componente ma che ha lo stesso compito in questo caso che cosa ho fatto? ho smezzato ho diviso la parte di un'oncia del campari ovvero quello che dà la parte sia aromatica ma soprattutto bitter al boulevardier e l'ho smezzato in parti uguali 7.5, 22.5, 15 e 15 è indifferente con un liquore all'agenziana il liquore all'agenziana che cosa ci darà? ci darà gusto quindi la parte aromatica ma soprattutto ci darà la parte bitter che cosa è successo? che in questo twist sono andato a diminuire una parte della ricetta originale e ad aggiungerne un'altra ma che ha lo stesso compito tutto questo per avere sempre equilibrio twist obliquo diagonale ragazzi è un po' più complesso lavorare su questi twist perché nel twist obliquo o diagonale bisogna andare a sostituire un ingrediente con un ingrediente di un'altra categoria merciologica ma che svolge lo stesso compito per farvi un esempio il twist che vi ho fatto sul vodka sour è molto 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 semplice per farvi capire in maniera semplice le cose è andare a sostituire lo zucchero liquido che dà dolcezza giusto? con un liquore al passion fruit che dà dolcezza ma dà anche gusto qui inevitabilmente deve cambiare qualcosa se un sour un vodka sour lo posso fare 50 ml 30 22.5 per farvi un esempio se vado a fare un twist del genere devo ribilanciare un po' gli ingredienti perché il liquore al passion fruit oltre a dare dolcezza dà anche parte alcolica quindi volendo potrei bilanciare la vodka al posto di 50 ml scendere a 45 aggiungere 22.5 di liquore al passion fruit in modo tale che compensa i 5 ml che ho tolto della vodka e diminuire leggermente la parte di limone altrimenti risulterebbe troppo citrico quindi una ricetta ideale di un twist obliquo diagonale in questo caso potrebbe essere 45 ml di vodka 22.5 ml di limone 22.5 ml di liquore al passion fruit in questo caso si ottiene un twist obliquo o diagonale l'evoluzione che vediamo adesso è un po' andare ad inserire tutti i concetti che abbiamo visto adesso qui prendiamo come esempio il whiskey sour barbon whiskey limone zucchero liquido poi opzionale l'albume per chi lo preferisce l'evoluzione ragazzi è questa la parte alcolica è stata smezzata quindi divisa in più sbilanciata sempre verso il barbon whiskey con aggiunta di un liquore al rabarbaro che oltre a dare la parte alcolica dà anche gusto quindi la parte alcolica in questo caso non è più composta solo dal barbon whiskey ma anche da un liquore al rabarbaro quindi è un obliquo mettiamola così sciroppo alla nocciola che cosa ho fatto in questa situazione ho sostituito un ingrediente che svolge il compito di dare dolcezza con un altro ingrediente che svolge il compito di dare dolcezza in questo caso è un twist verticale quindi abbiamo detto twist orizzontale su barbon whiskey e il liquore al rabarbaro twist verticale su lo sciroppo alla nocciola e il limone resta e in più che cosa sto andando a fare sono andato a modificare anche la texture come con l'aggiunta dell'albume quindi l'evoluzione ragazzi sta a voi andare ad inserire all'interno più twist più tipologico di twist on classic tra quelli visti in precedenza per andare a creare il vostro drink perfetto quella successiva che è anche a mio avviso la più interessante sotto alcuni punti di vista è quella dell'esaltazione un drink può essere creato partendo da un ingrediente e non per forza partendo da un drink se fino adesso abbiamo visto quattro esempi partendo da un drink ben preciso in questo caso invertiamo un po' il giro partiremo da un ingrediente principalmente quello che io consiglio è di partire sempre da un ingrediente di stagione e inerente ovviamente allo storytelling al tema che voi avete scelto il vostro menù una volta che avete scelto l'ingrediente da utilizzare che cosa si fa si ragiona su quella che è la preparazione in cui questo ingrediente esalta al meglio le sue caratteristiche quindi potreste scegliere un'infusione in alcol un bitter uno sciroppo un cordial una qualsiasi preparazione che vi soddisfa e che secondo voi esalta quello che è l'ingrediente una volta che ho realizzato la mia preparazione devo capire dov'è che posso andarla ad inserire ho fatto uno sciroppo fantastico perché è uscito buonissimo perché sono migliore a fare gli sciroppi che cosa farò andrò a trovare un drink da rivisitare sempre con i concerti di prima dove andrò ad inserire questo sciroppo voglio fare un sour perfetto gin proprio ve la butto lì succo di limone sciroppo di ananas questo già è un twist verticale aggiungo un'altra piccola variazione e creo una un'evoluzione del twist on classic quindi ritorna sempre a quello si parte dall'ingrediente si va si arriva si passa per la preparazione si arriva al drink per poi tornare alle linee guida che abbiamo visto in precedenza quindi questi sono i vari modi per andare a realizzare un un twist on classic più è appetibile più è studiato alla perfezione ragazzi più possiamo aumentare quella che è la marginalità come? cercando di stare sempre su un drink cost controllato quindi voi sapete già qual è più o meno il vostro budget e qual è il prezzo massimo di rivendita e dovete essere in grado di abbassare nettamente quello che è il drink cost e questo non vuol dire andare ad utilizzare dei prodotti scadenti chiaro? cioè lungi da noi spingervi a scegliere un prodotto passatemi il termine di merda va bene usare un gin da 6 euro al litro per farvi un esempio molto banale non è quello che vi stiamo dicendo vi stiamo dicendo che in base al vostro target dovete cercare di abbassare nettamente il costo ma come facendo un drink più appetibile con le preparazioni con il copy con il posizionamento e tutto quello che abbiamo visto prima per permetterci di venderlo a un prezzo maggiore tutto qui se vi becco utilizzare il Lion Earth della Lidl vi spacco la testa scherzo a parte di scherzi però il concetto è questo adesso invece andiamo a analizzare l'aspetto che a me personalmente mi stuzzica un po' di più e immagino la gran parte di voi le preparazioni homemade le preparazioni homemade sono fighissime quanto problematiche perché molte volte ci spingono a fossilizzarci solamente su DS e dimenticarci tutto il resto ad oggi si vedono fare preparazioni super esagerate con degli strumenti che un locale non si può neanche permettere che vanno dai 5.000 ai 10.000 euro per il rotavapor della della situazione il sonicatore cioè ce ne sono veramente tantissime tipologie che nel 99% dei locali italiani non ci possono entrare ragazzi bene quindi è inutile andare a cazzo voglio utilizzare il rotavapor poi vado nel locale che mi paga 1000 euro pure a nero e insisto sul comprare il rotavapor che costa 10.000 euro a che cosa serve assolutamente a nulla quindi in base alla tipologia di locale in cui lavorate chiaro dovete scegliere attentamente quelle che sono le preparazioni homemade se vedete in giro e le vedo anch'io anch'io vorrei avere un bel rotavapor a casa ma 10.000 euro gli rotavapor a casa che ce faccio quindi il concetto da capire è proprio questo non viaggiate con la fantasia bello tutto ma poi dobbiamo renderci conto di quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare che possiamo fare possiamo fare le preparazioni homemade la maggior parte senza usare il rotavapor nulla contro il rotavapor però attenzione in questa parte come diceva Gabriele prima non andrò a spiegarvi come si fanno le preparazioni homemade sulla community ogni giorno quasi io Gabriele e altri ragazzi come voi pubblicano preparazioni homemade molto 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 interessanti siamo sempre a disposizione sulle preparazioni homemade sulla community ma quello che andremo a vedere adesso è come selezionarle e come inserirle all'interno di un drink vi ripeto nell'altro corso abbiamo visto lo ripeto un'altra volta quattro tipologie di drink stella cavalli da tiro sfide e flop i flop dobbiamo evitare di inserirli nel nostro menu quindi con l'analisi dei dati riesco a togliere quelli che sono i drink che non vengo e restano a disposizione tre tipologie di drink sfida cavallo da tiro e stella ci siamo queste tre tipologie di drink in base ad esse io devo andare a scegliere le preparazioni homemade perché devo scegliere attentamente le preparazioni homemade perché se sbaglio la preparazione di un drink vi posso garantire che io ne ho sbagliate tantissime ovvero che ho inserito in un menu una preparazione perché pensavo che quel drink fosse il drink più acquistato del mio menu e poi ogni settimana mi trovavo a buttare mezzo litro di preparazione perché a farla la dovevo fare a farla la dovevo fare perché nel menu c'era e quindi io dovevo per forza avere quella preparazione ma nessuno ha acquistato quel drink quindi cosa succedeva che buttavo il prodotto quindi aumentavo quello che erano gli sprechi aumentare gli sprechi vuol dire spendere soldi limitare gli sprechi che è l'obiettivo che abbiamo di conseguenza ci fa avere un risparmio economico questo risparmio economico casomai possiamo investirlo su un'altra situazione su una bottiglia sulla grafica del menu su la fotografa che mi viene a fare un book di tutti i miei drink per spingerli sui social per metterli sul menu quindi gli investimenti da fare in un cocktail bar ce ne sono tanti se noi barman riusciamo a limitare esattamente le spese superflue siamo su un'ottima strada ogni tipologia di drink ha la sua preparazione perfetta quindi ricordatevi le tre tipologie di drink che vi ho detto prima stella cavalli da tiro e sfide e ad ognuna di essi andiamo ad inserire quelle che sono le preparazioni a mio avviso perfette partiamo dalla prima ovvero le stelle concettualmente le stelle sono quei drink altamente vendibili con un'alta marginalità che preparazione ci andiamo ad abbinare ci andiamo ad abbinare una preparazione di breve durata che cosa vuol dire ragionamento qual è se io faccio un drink ho in menù un drink che vende tantissimo quindi che ne devo fare parecchi è il miglior drink da abbinare a una preparazione di breve durata una preparazione di breve durata a mio avviso ragazzi sono gli sciroppi le sode perché gli sciroppi fatti con frutta fresca hanno una durata al top quindi per servirli al top di 3-4 giorni chiaro se riesco ad inserire in una stella quindi creare una stella con una preparazione di breve durata sarò sicuro al 99% che quella preparazione non andrà buttata cavalli da tiro al cavallo da tiro che è un drink di alta popolarità con bassa marginalità quello che posso fare è andare ad inserire delle preparazioni in media durata breve o media durata voi la scelta che cosa intendo per preparazioni in media durata intendo quelle preparazioni come sciroppi da spezie rub cordial con piccola aggiunta di alcol quindi quelle preparazioni che hanno una durata dai 7 agli 8 giorni che mi permettono di essere smaltiti senza buttare assolutamente nulla infine le sfide che sono quelle che a noi bartender piace tanto fare perché delle volte mi ci metto anch'io che vado un po' controcorrente e dico a me piace questo ingrediente voglio mettere questo drink sul menu e mi fossilizzo su una cosa uno o due sfide dentro un menu ci possono essere ovvero quel drink voi sperate che vada tantissimo quel drink che serve per accontentare una piccola nicchia della vostra clientela quello serve se nel vostro locale per farvi un esempio ogni mercoledì vengono 20 persone che amano il martini quelle 20 persone che vengono tutti i mercoledì nel vostro locale devono essere accontentate anche se sono solo loro a bere un martini cocktail quindi la mia sfida quale può essere quella di creare un martini cocktail perfetto per le persone che vengono il mercoledì e provarlo a spingere per tutti gli altri clienti in questo caso il mio consiglio per non rischiare di fare una preparazione che poi deve essere buttata preparazione lunga durata principalmente ragazzi parlo di infusioni in alcol liquori homemade bitter tinture infusioni in alcol distillati aromatizzati liquori aromatizzati quindi tutto ciò che ha una lunga durata a mio avviso deve essere associata con le sfide questo è una linea guida ragazzi a mio avviso e su tutte le situazioni in cui ho lavorato ha sempre funzionato e sta a voi poi fare una selezione giusta di quelle che sono le stelle quelle che sono i cavalli a tiro e quelle che sono le sfide e ovviamente creare dei twist home classic che piacciono ai vostri clienti chiaro detto ciò ragazzi ho finito la mia parte ripasso a Gabriele il controllo ci sei Gabri? alla grande allora come vabbè puoi anche evitare tanto non ci servo in effetti sì perfetto puoi lasciare quello allora ragazzi ultima cosa e diamo adesso spazio a la sezione domande e risposte quindi se avete delle domande dei dubbi a molte controllate perché ho già risposto ho scritto la risposta a fianco ci tengo a precisare una cosa perché ha fatto una avete fatto alcune domande molto interessanti all'interno del menu i cocktail ad alta marginalità vi ho detto Angelo vi ha mostrato come creare ottimi piston classic dovete fondere queste cose insieme al drink cost e analizzare e vedere i cocktail ad alta marginalità e non li dovete evidenziare evidenziare come vi ho detto non facendo la lista della spesa in quel modo non si evidenziano come posso evidenziarli sistemandoli all'interno del menu e poi parleremo vedremo come parlo sistemarli all'interno del menu e evidenziarli si possono usare tante tecniche come riquadro quindi mettere un riquadro evidenziare delle offerte dei pacchetti riservati dei cocktail particolari posso sottolinearlo quel drink posso metterlo in grassetto posso metterci a fianco un'immagine posso utilizzare le foto ok su alcuni drink per dargli più valore all'interno del menù e quindi per spingerli di più Pietro chiede chiede ti chiede a te Angelo rispondi di tu ti chiede come bilanci un cocktail quindi se è solo questione di gusto o ti basi su delle regole precise allora di regole precise non ce ne sono ragazzi cioè è impossibile avere una linea guida che ci dice fai esattamente così fai esattamente così ma tutto sta nell'analizzare quello che io sto utilizzando oggi per esempio sulla community mi sta stavo parlando con un ragazzo che ha fatto una domanda e c'era un drink con una preparazione molto interessante ma da un gusto delicato abbinato ad altri tre ingredienti con dei gusti estremamente invasivi e la domanda è stata perché non riesco ad esaltare il cordial alle noci che è delicatissimo cioè il ragionamento è perché se c'è una cosa che va a coprire devo stare attento quindi in primis sta nella selezione degli ingredienti due nell'analizzare quello che voi volete sentire quindi la prepara volete far sentire se io faccio uno sciroppo all'ananas fantastico e voglio far sentire quello che cosa devo fare devo cercare di trovare un drink che mi permetta di far esaltare lo sciroppo all'ananas tutto questo basandomi su un classico ovviamente voglio fare un twist sul daiquiri per farvi un esempio banale la struttura del daiquiri è distillato rum lime zucchero bianco bene voglio farlo con uno sciroppo di ananas che cosa devo fare devo aumentare un po' la parte ciprica perché al posto di mettere lo zucchero semolato metto uno sciroppo quindi aumento un po' la parte ciprica mi permette di aumentare un po' la parte dello sciroppo e quindi riuscire a bilanciare tutto per fare questo ragazzi si parte da un drink classico ma bisogna fare delle prove ad occhio purtroppo non ci si può andare ho quest'idea la provo fa schifo sbilanciata la riprovo che cos'è che non va modifico tolgo rimetto quindi sono tutte piccole prove tutti i piccoli esperimenti che dovete fare per forza se parti da un drink classico già hai una linea guida questo si Gabriele le domande non le leggo quindi le devi dire tu allora Valerio chiede quanti drink consigli di mettere in un menu di soli signature come consigli di informare una clientela che fa i soliti classici allora non so se ho capito bene la domanda ma non è assolutamente un problema fare i classici ragazzi non è che per forza bisogna fare dei signature drink dei twist on classic queste tecniche si possono applicare benissimo e tranquillamente sui grandi classici posso sui grandi classici posso andare a esaltare quindi evidenziare all'interno del menu delle offerte quindi se mai non metto sprizze punto ma se mai può diventare un pacchetto se mai può diventare un'offerta particolare se mai vado comunque a rendere più efficienti quei classici come abbiamo visto se mai evitando lo spreco migliorando il drink cost eccetera 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 quindi non ha un problema mettere i classici va benissimo Dario chiede causa covid molti locali hanno dovuto digitalizzare il loro menu attraverso il QR code quali sono i pro e i contro allora il digitalizzare il menu va benissimo ok queste tecniche si possono applicare tranquillamente anche sul menu digitalizzato ok il menu digitalizzato anche lì va fatto correttamente ok digitalizzare un menu bisogna farlo bisogna investire un po' di budget e farlo fare a qualcuno che sappia digitalizzare il menu e trasformarlo in versione digitale in maniera efficiente così come per il grafico voi una volta che avete sapete quali cocktail dovete posizionare in un certo modo perché li volete evidenziare perché hanno una marginalità più alta sapete il tema del menu avete un'idea di base ok un'idea non di base un'idea bella precisa di quello che volete fare la passate a chi deve renderla poi reale quindi quando noi ci confrontiamo col nostro grafico andiamo lì diciamo il menu va fatto così 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 poi ovviamente noi non lo sappiamo fare a livello grafico ci pensa lui però gli abbiamo dato già tutte le indicazioni quindi io comunque via personal opinione preferisco di gran lunga il menu cartaccio è molto meglio si tiene in mano ce l'hai come qualsiasi altra cosa quindi ovviamente ci sono dei pro e contro sì però attualmente causa questa situazione bisogna fare così oppure avere un menu plastificato eccetera 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 quindi va bene Rachele in un menu c'è un numero massimo di cocktail da inserire no non c'è un numero massimo di cocktail da inserire ma bisogna essere se bisogna non esagerare non bisogna fare un'infinità di drink ragazzi quante quanti come il primo il discorso che facevamo sui menu interminabili cioè non c'è il numero perfetto ok quindi quello che è il numero esatto di cocktail che va sul menu no bisogna essere semplici bisogna semplificare noi tendenzialmente lavoriamo sui 14 16 cocktail massimi ma ragazzi non prendetela come linea guida fissa appunto dipende dal locale dipende da tanti aspetti ovviamente nel menù va bene se ci metto 40 cocktail no ok metterci 30 drink tutti uguali no non va bene quindi bisogna semplificare un po' di più suddividerli anche in categorie cioè nel senso se io voglio mettere suddividerli anche in categorie 16 drink in un menù devo suddividerli in categorie quello che a noi per esempio utilizziamo molto spesso come cosa è creare una lista aperitivi quindi che ne so una lista di benvenuto mettiamola così con 4 5 barra 6 drink iniziali e altri 10 drink sui twist on classic più importanti quindi già dividerle perché poi dopo diventa anche difficile leggere visto che hanno come diceva Gabri 180 secondi per analizzare un menù realmente mettercene 30 40 diventa difficile ma sia far scelere al cliente quindi direzionare la scelta sia gestire tutti gli ordini preparazioni sciroppi ordina questo ordina quell'altro diventa un bagno di sangue allora Jacopo chiede per creare una storytelling di un drink è possibile giocare sui colori assolutamente sì assolutamente sì si può giocare tanto sulle caratteristiche del cocktail sui colori del drink su un particolare del drink noi esempio avevamo giocato tanto sulla storia di un cocktail adesso detta molto velocemente ricordava delle farfalle c'era questa storia di farfalle era un cocktail con un velluto sopra colorato quindi richiamava molto questa cosa ovviamente detta molto velocemente era contestualizzato in una storia in un menu a libro quindi era però sì assolutamente sì a livello di costi quando fate le prove per i vari twist on classic come vi regolate come vi regolate le prove rispondo io sì sì vai le prove devono essere fatte la bravura nostra sta nel limitare le prove ovviamente un drink provarlo 30 volte diventa diventa esagerato però provarlo 3 4 5 volte è concesso se faccio un investimento di 10 euro che è il drink cost di 5 drink per poi creare il drink più venduto del del nostro locale cioè allora sono super investiti bene quando state al banco e volete provare i drink perché è capitato anche a me stasera c'ho poco lavoro da fare che faccio e smetti ragazzi che cosa faccio mi metto là e provo i drink provare in quel modo è sbagliato a mio avviso bene provare drink al caso dietro al bancone senza una logica senza nulla non è il massimo provarli con un ragionamento dietro e con un obiettivo finale e lì ne posso fare quanti ne voglio allora Luana chiede se possiamo postare delle foto di menu nei prossimi giorni per capire bene perché c'è presente solo il menu del McDonald e allora Luana facciamo una cosa questo vale per tutti per tutti quelli che stanno seguendo adesso questa questa masterclass in live la community sfruttatela condividete se volete anche all'interno i vostri menu condividete degli esempi se volete delle e noi lo sapete vi rispondiamo li andiamo analizzare insieme così semmai può essere utile per tutti se avete il vostro menu se avete se avete dei dubbi a riguardo scrivete e quando siamo liberi quando abbiamo tempo siamo super disponibili comunque vedremo se riusciamo a postare qualche foto di nostro menu così da farvi capire bene semmai dove come organizzarlo più o meno Matteo chiede come faccio a sapere se un ingrediente sapere un ingrediente a cosa sta bene ad esempio voglio fare un cocktail al pistacchio come faccio a capire quali ingredienti stanno bene con il pistacchio e allora Matteo ti rispondo io molto velocemente devi studiare ci sono tanti libri ti puoi approcciare tanto al mondo della cucina uno di questi che ti consiglio è sicuramente la grammatica dei sapori che è molto bella e trovi tanti abbinamenti comunque oltre a quello ce ne sono tanti altri ovviamente devi andarti a informare sì ci sono tanti libri a riguardo Sara chiede a proposito delle categorie da inserire nel menu un mio collega li vuole separare per gusto sapore ovvero dolci speziati e amari secondo voi conviene? guarda Sara se uno può essere una delle tecniche che si possono applicare ovviamente in un contesto è una delle tecniche quindi insieme a tutte le altre del menu strategy sì va bene è un altro metodo per capire indirizzare bene anche le persone ok Joran chiede la mia idea di fare dei menu stagionali ma anche menu creati su apposite serate pensi sia una buona scelta? assolutamente sì i menu vanno creati in maniera stagionale ok non posso tenere un menu fisso uguale per due anni ok il menu deve variare deve cambiare a seconda della stagione perché perché si possono utilizzare ingredienti di stagione si possono fare dei cocktail ma stagione ok noi abbiamo fatto dei drink col tartufo con le castagne perché era inerente c'era abbiamo fatto un menu inerente al diciamo l'autunno molisano con tanti sapori che richiamavano quel periodo quindi sì si può giocare tanto su 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 quello Francesco bravo il primo che chiede quel magnifico libro quando esce ragazzi eccolo è uscito è uscito lo trovate metteremo il link adesso anche su il gruppo sui nostri vari canali social lo trovate online su Amazon e sulle varie librerie online quindi ve ne parleremo meglio che avremo modo di raccontarvelo di farvelo vedere e di analizzarlo insieme è un libro che come vi abbiamo già detto prima vi abbiamo già anticipato l'altra volta ha un titolo molto forte è un titolo che voleva andare a punzecchiare un po' su molti aspetti ma se ci seguite sapete già da un po' che ne stiamo ne stiamo parlando quindi si chiama smettila di fare solo il barman perché fare il barman è un lavoro fighissimo bellissimo di cui siamo tutti molto innamorati e ci siamo innamorati a questo mestiere a questo lavoro ma bisogna farlo nella maniera giusta e quindi prendere allargare la propria visuale allargare la propria visione quindi non concentrarsi solo sul drink ma su tanti altri aspetti e in questo libro ne parliamo ne parliamo ma trovate anche dentro tantissime preparazioni made di Angelo ok tantissime preparazioni made di Angelo tantissime foto fighissime tantissimi drink e quindi oltre a quello anche tanto 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 made tanti twist on classic ogni quando variate il menu stagionale sei mesi puoi rispondere tu Angelo? sì allora personalmente sono sempre per farlo in fare due due menu annuali ovvero sei mesi uno sei mesi un altro sei mesi esempio primavera estate in modo tale che abbiamo un range di ingredienti che ci sono e anche i gusti su cui posso lavorare sono molto simili che bene o male la primavera è il primo caldo l'estate è il caldo quindi posso iniziare a lavorare su drink dissetanti mi dicendo e parte autunno e inverno per drink un po' più pieni un po' più corposi dai gusti un po' più forti con ingredienti di stagione quindi minimo a mio avviso se voglio voglio avere un menu che riesce a rispecchiare tutte le situazioni ogni due modificarlo due volte l'anno quindi ogni sei mesi primavera estate autunno inverno se proprio siete dei dei mostri e avete il tempo per cambiare un menu potete farlo proprio ogni stagione l'unica cosa è che poi ogni stagione bisogna analizzare se il locale può investire su delle bottiglie nuove se puoi investire su delle preparazioni nuove se puoi investire sul cambio dei bicchieri se puoi investire su il grafico se puoi investire sulla stampa di un altro menu bene quindi il menu non lo dovete vedere solamente su creo 12 drink creo 14 drink e apposto così il menu lo dovete vedere anche come un investimento che fa il locale perché abbiamo visto che ci sta la fotografa che ci deve fare tutta la parte delle foto il grafico che ci deve andare ad impostare in maniera corretta il tutto creare nuovi drink cambiare bicchieri perché voglio fare proprio un menu strafigo fare le prove farvi il drink cost cambiare bottiglie cioè fare un menu è un bucio di culo bellissimo perché è veramente figo una volta poi che ci sono sul su carta i vostri drink e i vostri clienti li apprezzano ma è un bel lavoro da fare va bene allora Francesco mi ero perso mi ero perso la domanda può essere funzionale anche un'immagine del cocktail al posto della semplice lista degli ingredienti sì ne abbiamo parlato tanto Francesco quindi è sicuramente molto funzionale quando si crea un menu inserire i cocktail non incolonnati in maniera un po' più sparsa e sfruttare anche tanto le immagini ok sfruttare tanto le immagini però non so se era quello il senso la domanda era posso sostituire gli ingredienti con un'immagine un'immagine o una foto cioè non riesce a a sostituire gli ingredienti e in primis tra virgolette legalmente non potrebbe essere neanche fatto perché un cliente deve sapere per filo e per segno ciò che c'è dentro allergeni tutto e poi fare una cosa a scatola chiusa è estremamente complesso ci sono molti cocktail bar che lavorano in questo modo ti metto una descrizione come ti senti prendo questo qui però prendo questo qui poi mi arriva un drink e mi fa schifo che succede è veramente un rischio dovete avere del personale di sala super competente che deve sapere per filo e per segno tutto ciò che c'è dentro la vendita diventa anche più lenta perché devo stare lì a spiegare a tutte le persone che cosa c'è dentro per filo e per segno ed eventuali allergeni quindi scriverlo sarebbe l'ideale si può fare se poi sei consapevole di tutto il lavoro che ci sta da fare per venderlo e allora le preparazioni homemade Jacopo chiede le preparazioni homemade che voglio usare nel mio locale dovrebbero stare in più drink giusto? allora non è detto cioè ogni ogni drink può avere una preparazione quindi che ne so in un drink ci faccio il sciroppo d'ananas in un drink ci faccio un olio saccarum per farvi un esempio molto semplice quello che sarebbe molto vigo da fare è quello di riuscire a riciclare utilizzare tutta la materia prima in vari modi per farvi un esempio sciroppo d'ananas lo sciroppo d'ananas ha la buccia ha le foglie ha il frutto all'interno con il frutto all'interno che cosa ci posso fare? ci posso fare lo sciroppo faccio lo sciroppo con la parte solida che io vado a filtrare che cosa ci posso fare? ci posso fare delle chips da utilizzare chips essiccate da utilizzare un altro drink con le foglie che cosa ci posso fare? ci posso fare la decorazione in un altro drink ancora con le scorze dell'ananas che mantengono ancora delle proprietà del frutto che cosa ci posso fare? ci posso fare un'infusione in alcol in un altro prodotto quindi dall'ananas io ho fatto quattro preparazioni non dico che devono creare quattro drink perché se no faccio quattro drink con l'ananas e forse è un po' un'esagerazione però già fare due drink con l'ananas in forme differenti è veramente tanta roba l'olio saccarum buccio gli agrumi con le scorze ci faccio l'olio saccarum con quello che mi resta ci faccio la spremuta con la polpa che mi resta le sick ci faccio una chips un agrume usato 8.000 tre volte per limitare gli sprechi a zero allora Marco chiede nel caso non volessi mettere il prezzo ai cocktail come faccio con l'approccio col menu allora i prezzi li devi mettere per forza non so se vi sono spiegato male io i prezzi non vanno incolonnati e altro consiglio che vi do non mettete la valuta ok quindi scrivete solo 8 9 10 5 ok non mettete 10 euro perché sono altre sono sempre altre tecniche diciamo che influenzano tanto la scelta del cliente gli fanno diciamo percepire di più la spesa quindi i prezzi ce li devi mettere per forza mettili non incolonnati e sotto al cottero in maniera differente e senza la valuta Gianluca Reina chiede Gianlu chiede posto come primo menù per iniziare ci si può basare solo su cocktail classici di nuovo sì Gianlu assolutamente sì ragazzi fare un menù come ha detto Angelo ci vuole veramente tanta pazienza e tanto lavoro quindi più ne fate più ne provate più vi verrà meglio vi verranno meglio quindi inizia con un menù con soli classici poi piano piano ok lo vai a lo vai a ingegnerizzare e vai ad applicare queste tecniche ragazzi non è un problema non è il problema dei cocktail è il problema di tutto quello che c'è dietro quindi di fare un menu scritto bene di fare un menu graficamente fatto bene con un tema originale con un formato fatto bene affidandolo a un grafico poi se usi i classici va bene va benissimo e Yuran Yuri ti chiede posso chiedere ad Angelo un consiglio non lo so se vuoi può Angelo si si ha detto una risposta si ok come creare un bitter al wasabi come creare un bitter al wasabi bisogna analizzare un po' tutto il discorso dei bitter quindi capire che il bitter deve avere una parte amara e deve avere una parte aromatica quindi a mio avviso quello che potresti fare proprio detta molto velocemente creare delle tinture che ti diano una base amara quindi che ne so genziana china barbara e via dicendo facendo un blend che ci sta bene e la parte aromatica provare a fare un'infusione in alcol di wasabi bene quindi che ne so prendi la vodka la lasci in macerazione col wasabi perché non dovrebbe essere solubile no potrebbe anche sciogliersi in botta quindi manco troppo complesso potrebbe essere vai a bilanciare e crea il tuo bit se mai ne parliamo anche sulla community poi l'idea è veramente finito è lavorare su un 30% di base amara 70% base aromatica di solito questo è quello il rapporto che utilizzo io però completamente personalizzabile altre domande Gabriele allora Ale ultima chiede mettiamo il caso volessi provare a farlo da me senza l'ausilio di un grafico con cosa lo fareste voi allora Ale ti rispondo molto sinceramente io utilizzerei utilizzerei paint no sto scherzando ovviamente io utilizzerei un grafico quindi lo affiderei a un grafico proprio senza pensarci su due volte nessun altro programma nessun altro programma mi dà lo stesso mi dà la stessa resa ok poi di nuovo apro parentesi dipende quanto ve la cavate a livello computer con i programmi utilizzando i vari programmi di grafica se siete bravi se ve la cavate se siete dei fenomeni vi potete anche cimentare voi ragazzi però fatevi un po' di autoanalisi vedete ok quanto vi sentite propensi a fare questa cosa altrimenti affidatela a un grafico ragazzi i grafici ce ne sono tanti prima di lanciarvi a farlo voi con Word Paint o qualsiasi altro programma fate un giro di preventivi chiedete ok informatevi vedete quanti qual è il prezzo medio e vi fate un'idea scherzava meno male meno male allora ragazzi detto questo anche questo webinar è terminato ok quindi due cose assolutamente la prima commettetela di fare soli barman e la seconda è grazie di aver partecipato anche a questo webinar mi raccomando seguite seguite anche quello sul Dreamcast perché esso vanno vanno di pari passo quindi è importante comprenderli entrambi e ci sentiamo nei prossimi giorni con altri webinar e ci sentiamo sulla community per qualsiasi dubbio scrivete in commento cercate di scrivere lì perché ci scrivete già in tantissimi privatamente perché molte domande molte domande molti dubbi che avete sono molto interessanti sono ottime domande e sono veramente tanto utili anche per molte altre persone quindi se le fate lì è sempre meglio però sapete che vi rispondiamo anche in privatamente va bene ragazzi detto questo vi salutiamo grazie e ci vediamo al prossimo episodio al prossimo webinar